Sei bello per essere negro Torna al tuo paese Siamo stufi di mantenervi Cimmia Stai meglio al giardino zoologico Dovevi affondare col barcone Sbaglio della natura Tornatene nella giungla Vuoi comprare I crimini d'odio sono reati perseguibili penalmente Sono quelle offese e quelle azioni contro persone e cose Motivate esclusivamente dal pregiudizio Se sei vittima o testimone di un'aggressione verbale O di un atto di violenza di stampo razzista Omo transfobico, antisemita o islamofoba Hai la possibilità di reagire Perché non sei solo L'odio lascia sempre il segno Non restare indifferente